Ciao, buongiorno a tutti, mi ero ripromesso di staccare tre giorni ma volevo condividere con voi questa bella notizia, rapidamente, vi tedio poco, siamo riusciti grazie al lavoro del Movimento 5 Stelle e dei colleghi che lavorano alla manovra a togliere 100 milioni di euro su un fondo accessorio per i dirigenti dei ministeri, fondi in più rispetto agli stipendi che già prendono, fondi accessori, quindi aggiuntivi rispetto agli adeguamenti contrattuali, in un momento in cui stiamo cercando soldi ovunque credo sia una scelta giusta quella che il Movimento 5 Stelle ha fatto e credo sia una vittoria del Paese riuscire a evitare che questi soldi vadano a chi fino ad oggi credo che arrivi a fine mese, perché quei soldi devono andare per le imprese e secondo me in questa manovra non ce n'è abbastanza che possono aiutare il lavoro, possono aiutare i giovani, però mi interessava dare a voi questa e condividere con voi questa bella notizia, perché il Movimento 5 Stelle non si dimentica da dove parte, non si dimentica quali sono le sue origini e soprattutto non si dimentica di continuare a restare coi piedi nel mondo reale, ecco questo credo sia molto importante per noi e molto importante soprattutto per chi crede in noi e chi continua a lottare nonostante tutte le difficoltà, poi ci sono ancora tante cose da fare, come vi ho già detto secondo me non si è abbastanza fatto per il lavoro, per aiutare le imprese, perché noi dobbiamo non dimenticarci che il lavoro si crea aiutando le aziende, aiutandole a crescere, aiutandole ad andare all'estero e non continuando solo a tassarle, grazie al nostro intervento si è già modificata parzialmente questa norma per le auto, ma a me non piace, non sono convinto, per me non è abbastanza, perché con questa impostazione non si sta aiutando diciamo il cambiare il parco macchine, ma si va solamente a far pagare ancora chi già paga, ecco non credo che sia questo l'obiettivo, quindi di lavoro ce ne sarà tanto da fare in Parlamento, non facciamoci preoccupare da queste discussioni perché stiamo lavorando e quando si lavora è giusto analizzare tutte le ipotesi, perciò il Parlamento lavorerà sicuramente per far meglio.